Giotto al Karate Pio Saki Koppu Bello a tutti ragazzi, qua è ManuViking82 Siamo qua con un'altra gara malata oggi Sempre su GTA 5 Online Guardate in quanti siamo Siamo in compagnia di X-Dexter Guardatemi ragazzi, sono quasi completamente trasparente Solo la testa mi si vede Siamo sempre con la nostra entity personalizzata E siamo veramente Intropi Quanti cazzo siamo Saluto di tutti gli amici in sessione Nel party insieme a me E partiamo Si parte ragazzi Due giri Vediamo che non spingano subito Attenzione I point di qua a destra Oh mio dio Ecco ci hanno toccato subito Guardate cosa ci passano subito davanti tutti Occhio E ci buttano fuori Ancora Dexta Dexta Ci ha lanciato una mina adesiva Meno male che ha fatto saltare il giocatore dietro di me Che culo ragazzi Andiamo Mi sa che proprio mi ha puntato Ormai mi riconosce Mi vuole far saltare Quello stronzo maledetto Eh guarda mi buttano fuori Incredibile Adesso ci ha passato Dexta Ci lancerà una mina di sicuro Guardate cosa esplode tutto Siamo in settima posizione Ma ho paura di saltare in aria Guardate Sto facendo lo slalom Alle sue Bombe adesive Sta tentando di far saltare il giocatore davanti a me Mi ha sbagliato strada Sto facendo in tutti i modi di lanciarmi linee Attenzione Qua che cazzo bisogna fare Oh mio dio È successo un casino allucinante ragazzi Non potete capire Ecco Ci hanno fatto saltare Ragazzi che casino Sono passato in decima posizione Ho preso il checkpoint in una maniera Incredibile Veramente Ho saltato quasi il ponte con una capriola Andiamo Siamo in quarta posizione Tentiamo di recuperare gli altri La mia entity veramente distrutta E qua che cazzo c'è? Oh mio dio Oh mio dio Non ho capito neanche cosa stavo per fare Vediamo se riusciamo a girarci Siamo in terza posizione Se qualcuno mi viene adosso No ragazzi è allucinante Non ho capito dove dobbiamo andare Il checkpoint è là in alto Facciamo subito rientro E ci riproviamo subito Che cazzo di rampa è? Peccato Andiamo in terza posizione Siamo passati in sesta Continuiamo ad andare Guardate che cazzo di rampa Di lupo Guarda che ne vengono pure addosso Giocatori proprio veramente bastardi Ecco Eccoli Grazie mille a tutti Mamma mia ragazzi E' veramente un casino Siamo passati in undicesima Allora visto che la mettiamo così Lanciamo un po' di Linea di prossimità E vaffanculo tutti quanti Visto che ci vengono addosso E ci fanno saltare Eccolo qua X-Dex Mi ha piazzato là Sempre lui La mina inizia Rampa E io la devo ripiazzare Anche a lui Attenzione Oh mio dio Non capisco come ormai Io piazzo mine Ma non salta in aria nessuno Si è finito in tredicesima posizione Attenzione Attenzione vediamo il nostro amico Pippo Che è in prima Attenzione super mega warride Stupendo Siamo andati in quarta posizione Siamo andati in quarta posizione Andiamo andiamo Questa è in quarta posizione Questa è in quarta posizione Riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a arrivare almeno sul podio E' in quarta E' in quarta Abbiamo invitato una mina Incredibile Incredibile Il nostro amico Pippo Vaudix è sempre in prima posizione Ragazzi iscrivetevi al suo canale Andiamo andiamo Sempre in quarta Ci avviciniamo Passiamo adesso il ponte Vediamo che Dextra è addirittura Undicesimo Sempre in questo punto qua Mi ammazzo ci siamo stiamo per arrivare sempre in questo punto qua di merda ecco siamo passati adesso vediamo forse riusciamo a prendere gli altri giocatori siamo in terza posizione non riuscire a farlo subito non dobbiamo sbagliare e sperare che qualcuno si divida i coglioni in quella avanti ecco ma la gente non sa proprio giocare in questo cazzo di gioco è una cosa indecente e neanche una rampa sanno prendere si schiantano contro il container da soli mamma mia siamo ritornati in quarta ecco facciamo super salto no 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 e ci spingono ci spingono riuscivamo a farla eravamo in prima posizione eravamo in prima posizione e ci hanno buttato di sotto mamma mia incredibile ci riproviamo ma là sopra c'è veramente un casino allucinante andiamo andiamo che lo rifacciamo subito ragazzi andiamo ok facciamo i due o tre avvitamenti cadiamo come al solito di merda però sono in prima posizione attenzione a non cadere non cadere andiamo incastrati qua che cazzo vuole questo giocatore di merda levati e mi ha buttato giù ma che pezzi di merda che sono che pezzi di merda che si ferma nella rampa niente da fare non riusciamo non riusciamo guardate qua che bug allucinante sono dentro di altra macchina spingiamo questo attenzione saltano in aria tutti c'è gente che viene addirittura in contromano noi siamo in seconda vediamo se riusciamo a farlo andiamo rendila bene una cazzo di volta eccoci troviamo la cazzo di aggare in mezzo alle palle e non riusciamo per colpa di quello eravamo ancora una volta in prima posizione è incredibile eravamo primi siamo rinfiniti in quinta posizione e non riusciamo a farlo per colpa della gente che non è capace a giocare veramente andiamo facciamo sempre i soliti due o tre abitamenti atterriamo bene ecco e mi trovo una cazzo di macchina scoppiata in mezzo alla rampa non si può non si può cioè perdere una gara così è veramente impossibile guardate che roba ragazzi mi tocca addirittura fa passare la gente ok ok ci siamo un paio di abitamenti atterriamo perfetti passiamo sopra uno vediamo se riusciamo a salire riusciamo a salire ma siamo in seconda posizione in seconda posizione andiamo ragazzi vediamo se ne riusciamo a concludere ecco quel bastardo di ninja che ci ha fatto saltare 80 volte che si era messo in mezzo i coglioni alle rampe l'urido bastardo ha concluso in prima posizione noi siamo secondi e tentiamo di tenerla andiamo quasi 11 minuti di gara cerchiamo di non sbagliare qua video traguardo ragazzi ultimo checkpoint eh sì bellissimo concludiamo in seconda posizione potevamo arrivare anche primi gara veramente devastante ragazzi GTA ed è stato molto strano che non l'ho beccato più Dexta che mi ha fatto saltare in aria ho trovato veramente di tutto macchine scoppiate durante le rampe gente in contromano nessuno che ti faceva passare vediamo Dexta che è in settima posizione due giocatori l'hanno anche abbandonato perché eravamo i 13 andiamo a vedere X-Dexta cosa sta facendo di sicuro starà devastando qualcuno andiamola a vedere eccolo qua con la sua adder nera opaca quasi 12 minuti di gara ragazzi vediamo se qualcuno concluderà vediamo un altro che ha abbandonato la sessione il nostro amico Pippo è in quarta posizione forza Pippo vediamo di concludere cosa meno parte il countdown sempre 12 minuti è stranissimo perché vedo proprio Dexta che era ancora primo giro sta arrivando adesso a fare il secondo non ho capito che cazzo mi sia successo guardatelo è da solo eh niente da fare ragazzi deve ancora arrivare ecco guardate come fa cosa sta facendo ah non ha preso neanche il checkpoint incredibile veramente guardatelo guardatelo con le bombe adesive in mano che tenta di far saltare tutti beh che questa prima o poi me la pagherai perché mi hai fatto saltare ancora due volte queste cazzo di niene non ti preoccupare la prossima volta che farò un culo bene ragazzi qua non conclude più nessuno quindi qui da Manu Viking è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace mettete un bel like per supportarmi ok niente commentate pure qui da Manu Viking è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti